L'attesa è ormai finita. Martiti pomeriggio sparo che Pascarella saranno finalmente faccia a faccia. Dopo tante chiacchiere le parti si incontreranno per verificare la fattibilità o meno della trattativa. Difficile dire quale sarà l'esito. A questo punto è giusto che le parti mettono da parte i vecchi rancori per il bene della casertana. Avanti, con o senza Pascarella? Questa è la domanda che in molti si sono posti in questi giorni. Se l'ex portiere rosso-blu non dovesse trovare un punto d'incontro con l'attuale dirigenza, che ne sarebbe dei falchetti? Il presidente sarebbe disposto ad andare avanti da solo, ma soprattutto ne avrebbe la forza. L'ingresso in società di Pascarella rafforzerebbe un po' con l'attuale base societaria. Ma l'altra domanda è inevitabile. Sicuri che l'imprenditore di Valle di Maddaloni non proponga all'attuale proprietà un passaggio di consegni totale? A questo punto nulla è da escludere. Nella giornata di martedì se ne saprà qualcosa di più.